Questo anno di legislatura, il principale strumento che la Commissione Antimafia ha cercato di mettere in atto per contrastare questo fenomeno, qual è? Io direi che principalmente l'assunzione della consapevolezza che di mafia bisogna parlare anche in Lombardia, perché è una presenza che c'è e che condiziona il tessuto socio-economico di questa regione. L'obiettivo è quello di mettere in atto un'attività legislativa e far crescere una cultura antimafiosa sul territorio regionale.